portafogli digitale europeo ma in italia può saltare lo speed amici di come donkey shot ben ritrovati con il tecno ribelle puntata numero 44 terza stagione nulla sarà più come prima tornare indietro sarà impossibile l'umanità è a un bivio quante volte l'abbiamo sentito ripetere dall'avvio accelerato della quarta rivoluzione industriale un cambio di paradigma come stravolgimento epocale avallato dai governi centrali partorito da un grumo elitario tra tycoon della silicon valley e multinazionali dell'hitec ma pure con sessi sovranazionali di eletti e non eletti come la commissione europea e il forum economico mondiale messo in pausa lo shock planetario della serita emergenza pandemica ora quel nulla sarà più come prima sta cercando di entrare nella fase 2 del progetto schiudendo le porte alla tecnogabbia liberticida e transumana a marzo infatti parte anche in italia la sperimentazione dell'european digital identity wallet cioè il cosiddetto portafogli digitale il nuovo sistema di identità digitale voluto dall'unione europea ma preconizzato dall'elite a davos nel 2018 un sistema interoperabile per i cittadini d'europa per accedere a tutti i servizi pubblici come ad esempio la richiesta di certificati di nascita certificati medici la segnalazione di cambio di residenza l'apertura di un conto corrente in banca la richiesta di un prestito bancario la presentazione della dichiarazione dei redditi accesso all'università a casa o in un altro stato membro conservare una ricetta medica utilizzabile ovunque in europa persino noleggiare un'auto utilizzando una patente di guida digitale e poi accedere all'internet con un certificato di autenticazione web qualificato solo su siti ritenuti affidabili fare infine il check in in un hotel eccetera ed eccetera insomma in sostanza praticamente l'intera vita civica di un cittadino trasformata in digitale monitorata da remoto archiviata e concentrata all'interno di una super app installata sullo smartphone se dovesse andare in porto la sperimentazione dell'european digital identity wallet cioè una sorta di super mega green pass rafforzato e omnicomprensivo rimanerne senza o anche solo esserle tenuti volutamente fuori con un blackout un hackeraggio o disconnessi come avviene in cina coi puniti dal sistema di credito sociale appunti potrebbe significare come non avere più una propria identità niente certificato di nascita niente certificato medico nessun accesso ai servizi bancari restare senza lavoro e istruzione interdetto persino il web o la libera circolazione in hotel o su un'automobile noleggiata solo che poi oltre l'over promise liberticida e tecnocratica sbandierata da bruxelles accade che a roma si è costretti a fare i conti con la realtà così il paradosso è che proprio da noi in italia dove col progetto pilota europeo il borsellino digitale del wallet system lo scorso anno era già stato presentato dall'ex ministro vittorio colau dell'esecutivo di mario draghi se ento metà aprile tra stato e gestori non verrà trovato un accordo sulla convenzione scaduta il 31 dicembre scorso il 95 per cento dei servizi digitali dello speed non sarà più accessibile con buona pace dei 33,5 milioni di utenti già attivi sul sistema pubblico di identità digitale prossima tappa fine aprile scrive la stampa senza un accordo e una volontà politica chiara per lo speed sarà l'ultimo accesso un modo come un altro per far saltare il banco il classico gioco delle parti o solo melina all'italiana per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a stop 5g salute ambiente geopolitica privacy transumanesimo controllo sociale libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale terra nuova edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com ricordandovi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche sul media player le ali del bruco appuntamento alla prossima puntata del tecno ribelle e un caro saluto a tutti da maurizio martucci